ciao a tutti rockers e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qua con popo bella con popo bella allora siamo qui nella mappa minimalist allora the rules delle regole ok che cosa so find and complete the majestic monument by placing the 16 colors of wall and the four ore blocks on its 0s0s0u003d rule 1 you may madonna già mi rompo le palle come si fa a pagina successiva ok mette a difficoltà normale tu puoi craftare quattro blocchi iron smeraldo gold diamando don't not make or move ender chest non preparare o muovere l'endercest ok questo non preparare il nether portale del nether provi to leave the bedrock weather blocks make have fun le note vediamo leggiamo le note perché come giusto che sia every arena even un'intersezione es nascosto nome loot colleziona il always che cazzo si madonna ma la traduzione proprio bella te la sto facendo eh si bellissimo thanks to you tutti quanti move some cake io la torta la prendo perché ci sta allora welcome to minimalist by caladoon a ctm map every dungeon is 24 24 24 canale youtube anzi dobbiamo salutare christian 177 che sarebbe un ragazzo che conosco benissimo e ha convertito questa mappa su playstation 3 e playstation 4 che mi sa che dobbiamo scendere non abbiamo ma che schifo no 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 io se risalgo eh cioè noi stiamo in pratica senza ma senza armi senza facciamo così visto che ho fame metto una torta qua vieni qui vieni qui che ehm non può va 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 mangi ancora mangi madonna ok dai dai possiamo scendere vediamo un po' come fa madonna che schifo ma qua stanno eeeh vabbè che cos'è un orcia oh scusa scusa christian occhialo madonna madonna che uuuuh una con la spada di ferro ma siamo pazzi qui siamo pazzi veramente no 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 non distruggere blocco li attacchiamo da eeeh vabbè quanti ce ne sono quanti ce ne stanno vediamo che riusciamo a trovare li stanno tutti seguendo madonna che schifo vedi che schifosi che siete fate schifo tutti quanti madonna quanti ce ne sta ma che veramente ma chi chi è il pazzo che avvo no non lo so dimmi che hai trovato qualcosa di interessante dentro con la cassa madonna quanti ce ne ci sta anzi io io non lo so ho paura di alzare il volume del dell'audio del gioco madonna ah c'è una spada ah grazie ok tu ce l'hai madonna qua stiamo facendo strage madonna madonna quanti ce ne stanno eeeh vabbè ma qua navi rimane più no ma mi sa che qua continuano a spawnare all'infinito eh ma perchè se è così io faccio il lancio si qua spawno eeeh vabbè il chicken anche madonna quanti ce ne stanno che facciamo che facciamo ah eeeh accendi il microfono perchè ti ho perso non stai più per c'è il microfono strano ah in anno io sto facendo punta esperienza a catena sto distruggendo la mia spada questo è vero però oh cacchio perchè non mi laggare in questi momenti ok allora a poco a fiero l'abbiamo perso sta senza microfono aaaaaaah no passaggio a gioco offline che cosa perchè offline ma se c'è il cavo line attaccato non ci credo non ci credo eh raga alla prossima ciao 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 ciao